Si è aperta con la commemorazione di Antonio D'Antonio, revisore dei conti di Assia e componente del Collegio di Controllo Contabile del Comune, la seduta del Consiglio Comunale di Napoli in Via Verdi. La breve cerimonia si è svolta con i rappresentanti di Giunta e Consiglio alla presenza della famiglia. Si è poi entrati nel vivo con l'intervento di Simona Molisso del Gruppo Federazione della Sinistra, che ha formalizzato l'uscita dallo schieramento e la nascita di un nuovo gruppo politico. Si chiama ricostruzione democratica, sarà la stessa Molisso a guidarlo e vi faranno parte anche i consiglieri di Napoli e Tu a Gennaro Esposito e Carlo Iannello. L'obiettivo, annunciano, sarà quello di rivitalizzare il programma presentato in campagna elettorale dal Movimento a Sostegno del Sindaco. Numerosi in aula gli interventi e essensi dell'articolo 37 del regolamento che hanno preceduto la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno. Approvati a maggioranza il regolamento comunale per la toponomastica e la numerazione civica dell'assessore Alberto Lucarelli e la delibera sul conferimento all'Asia dell'immobile di proprietà comunale sito in via Brin 62 per lo svolgimento del servizio di igiene urbana. Grazie.